Giorno 491. Molte notizie di oggi vengono da Est. Dopo aver condotto con successo una serie di operazioni a sud di Bakhmut, l'attenzione degli Ukehaini si è spostata nella parte nord della regione. La principale asse d'avanzata è diventata l'autostrada per Slovyansk, dove i russi stavano usando le dense linee di alberi lungo la strada per nascondere estensive reti di trincee. I membri della trentesima brigata meccanizzata ukehaina hanno recentemente rilasciato un video che mostrava la tattica usata per sfondare le difese russe. Come potete vedere, i russi hanno sviluppato un sistema di trincee molto lungo, il che rende l'artiglieria e i mortai molto meno efficaci. Ecco perché gli Ukehaini hanno schierato diversi droni d'assalto, che a differenza dell'artiglieria che spara alla cieca, possono bersagliare l'affanteria esattamente nel punto in cui si trovano. Questo approccio è estremamente efficace e ha permesso loro di infliggere perdite sostanziali nei primi minuti degli scontri. Dopo aver completato la prima fase delle operazioni, gli Ukehaini hanno schierato i loro carri e bombardato le trincee più vicine. Questo ha permesso loro di minare le difese russe demolendo le fortificazioni principali e di scacciare i russi dai bordi esterni, permettendo alla fanteria ukehaini di entrare nelle trincee. Gli Ukehaini sono riusciti a prendere le prime posizioni e sono stati visti mentre si rilassavano poco prima dell'assalto successivo. Grazie al coordinamento tra i vari distaccamenti sono riusciti ad avanzare di un chilometro. Le forze russe hanno provato a rimediare la perdita di territorio con un contrattacco, ma spostando le attenzioni verso Berkivka, in quanto la situazione russa nel villaggio sta peggiorando di giorno in giorno. Ecco perché i russi, per aumentare la stabilità dei loro fianchi, hanno deciso di provare a ricatturare le linee di alberi intorno al bacino idrico. Sono stati tuttavia fermati dal fuoco ucraino, la cui artiglieria ha lavorato intensamente per fare in modo che l'attacco fallisse. Nel frattempo, le forze ucraine hanno continuato ad intensificare le proprie attività a nord di Bakhmut. L'idea principale è quella di intaccare la testa di ponte russa a ovest di Suledar e creare le condizioni per accerchiare Soledar e Bakhmut. Se consideriamo la topografia della regione, possiamo vedere immediatamente che l'insediamento più importante è Yakolivka. Si trova infatti su una collina che sovrasta sia Soledar che Bakhmut, quindi sfondando le difese russe in questa zona, gli ucraini avrebbero accesso alle retrovie. Da poco sono state rilasciate immagini che indicano che gli ucraini hanno già lanciato una preparazione d'artiglieria sull'insediamento. I russi comprendono pienamente l'importanza di Yakolivka e non badano a risorse pur di eliminare la decima e centonovesima brigata d'assalto, che sono quelle responsabili per la regione, utilizzando persino rischiosi attacchi aerei. Un combattente ucraino ha individuato e abbattuto uno di questi jet, evitando che potesse completare la sua missione di bombardamento. L'aviazione russa rimane una grave minaccia per i soldati ucraini, il che rende i sistemi portatili contro aerei un fattore cruciale, il cui rifornimento può cambiare radicalmente la situazione sul campo. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.